amici di saper fare eccoci qua di nuovo con un altro video bene questo che ho in mano è uno strumento per poter testare i cavi di antenna sia satellitari che anche tv digitale terrestre ma non solo solo i cavi di antenna ma anche ad esempio i cavi per radioamatori oppure i cavi normali tipo audio video ebbene con questo strumento ovviamente l'ingresso e attacco f poi si possono adattare per i vari cavi con questo strumento è possibile testare sia il cavo se in cortocircuito e quindi inserendo su questo connettore un cavo e se risulta in cortocircuito si accenderà il led rosso mentre dalla parte sinistra di questo strumento è possibile inserire ad esempio la discesa del cavo di antenna tv quindi dall'alimentatore verso l'amplificatore quindi bypassando questo strumento tra discesa alimentatore uscita all'amplificatore con questo possiamo vedere attraverso questo voltimetro se il cavo è attraversato dalla 12 volt che serve appunto per amplificare il nostro segnale tv oppure i 24 volt nel caso del digitale terrestre per la parabola l'lnb ovviamente il nostro lnb avere con questo appunto è possibile testare se accende si visualizza una tensione oppure se non accende nulla vuol dire che c'è un interruzione attraverso il cavo quindi con questo strumento è possibile fare questo tipo di lavoro uno strumento molto semplice da costruire e quindi andiamo adesso a vedere come realizzarlo e poterlo avere così con diciamo con la nostra strumentazione perché credetemi è molto utile soprattutto ai principianti che magari non hanno dimestichezza con il tester e quindi vogliono uno strumento capace di poter testare appunto l'integrità di questi circuiti bene ecco lo strumento praticamente aperto dalla parte posteriore come vedete abbiamo un connettore f da pannello e dall'altra parte la stessa cosa questo è il nostro voltimetro a led e praticamente abbiamo sia il led per testare la cortocircuità di un cavo attraverso quest'altro connettore e sia ovviamente anche la misura della tensione attraverso appunto il negativo e il polo centrale positivo per quanto riguarda il cavo in entrata e uscita volendo si può anche invertire l'entrata del dell'uscita dell'alimentatore anche dall'altra parte perché è un bypass quindi vedete questo è il filo rosso che del dello strumento del voltimetro che va al centro appunto del nostro connettore f da pannello mentre il filo nero che la massa del nostro voltimetro va alla massa le due masse sono collegate attraverso questo cavo giallo per quanto riguarda la parte invece per misurare l'eventuale cortocircuito il led come vedete la parte della nodo va al direttamente alla resistenza da mille mille ohm e al polo positivo della batteria mentre al polo negativo abbiamo un terminale che va al centro del connettore f e quindi per accendere il led bisogna cortocircuitare appunto tra massa e catodo delle del led questi due punti una volta che vengono cortocircuitati vedete se io spiego adesso la luce si vede praticamente che il led si accende come avete visto è molto semplice da realizzare questo strumentino ovviamente metterò lo schema in fondo al video il link per scaricare appunto lo schema e avere così le idee più chiare per quanto riguarda la costruzione di questo strumento bene se questo video ti è piaciuto metti un like ovviamente sul nostro video se vuoi fare una donazione c'è il pulsante super grazie ti invito sempre a se non hai fatto a iscriverti nel nostro canale youtube saper fare attivare la campanellina per essere sempre aggiornati dei nuovi video ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao